Ben trovati, oggi ci troviamo a Solda, in provincia di Bozzano, in alta Val de Nostano, con un'altitudine di 1.900 6 metri sopra l'edano del mare. La mia aria sciistica sul ghiacciaio ai piedi dell'Orkles è circondata complessivamente da 14 civette, tutte oltre sopra i 3.000 metri di altitudine. Situata nel gruppo dell'Orkles nel Parco Nazionale dello Stedio, l'aria sciistica sul ghiacciaio di Solda offre 44 km di piste per sciatori esperti, amanti degli scorti invernali e principiati. Grazie alla sua posizione particolare, la neve è garantita per circa 6 metri all'anno. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!